Siamo qui alla seconda giornata del congresso di radicali italiani e abbiamo l'ex sindaco di Maddaloni Antonio Cerreto che ci parlerà e ci aprirà quindi una finestra su quelle che sono le vicende non soltanto politiche ma anche giudiziarie della provincia di Caserta e anche ci farà una delucidazione su quelle che sono le intenzioni di voto del referendum di questa provincia che appare sempre molto nebulosa in quanto alla politica ultimamente allora Antonio innanzitutto volevo chiederti della situazione amministrativa del paese perché non supera gli abitanti richiesti quindi però è Maddaloni è un paese che si atteggia totalmente a città che è diventato protagonista di vicende di corruzione dal punto di vista nazionale a causa insomma del comportamento ispirato alla piena illegalità del sindaco Rosa De Lucia. Ma in pratica non è solo la questione Maddaloni che balza agli occhi in questo momento diciamo nella provincia di Caserta è proprio la provincia di Caserta che è sotto l'occhio del ciclone della magistratura se pensiamo che il presidente della provincia è uno degli ultimi ad aver subito un arresto il presidente della provincia di Caserta e colui il quale si è posto in contrapposizione alla provincia cioè l'altro contendente anche lui arrestato per fatti di corruzione basti dire questo per dire che purtroppo la provincia di Caserta è in una grave difficoltà dal punto di vista politico perché i politici sono quasi tutti sott'inghiste e la maggior parte di questi sono anche finiti chi in custodia cautelare in carcere e chi agli arresti domiciliari per poi passare non è solo il problema della provincia in sé ma è anche il problema dei comuni in provincia di Caserta dove la maggior parte dei sindaci negli ultimi due anni sono stati quasi tutti arrestati cioè è più raro vedere il sindaco di un comune che non è stato arrestato che non il contrario quindi è una situazione gli ultimi sindaci arrestati sono quelli vicini al comune di Maddaloni che ha subito la stessa diciamo la stessa problematica giudiziaria con l'arresto dell'ex sindaco i comuni limitrofi quali San Felice a Cancello è stato arrestato poco tempo fa il sindaco di quel comune che mi sembra sia ancora detenuto sempre per corruzione per fatti relativi alla questione rifiuti nonché altri sindaci della zona anche per lo stesso motivo e quindi credo che ci saranno ancora ulteriori arresti io non so se la prefettura di Caserta con tutti questi arresti sia in grado di poter mettere i commissari nei vari comuni tanto è vero che a Maddaloni l'hanno dovuto chiedere in Toscano un commissario perché eh praticamente con tutti questa questa mole di arresti c'era pure la difficoltà a mettere un commissario prima per fettizia e poi straordinario nei vari enti quindi è una situazione dal punto di vista politico e dal punto di vista giudiziario estremamente drammatica per poi passare a Maddaloni Maddaloni probabilmente dove io sono stato sindaco dal 2010 al 2012 andrà al voto probabilmente l'anno prossimo andrà avvolto in una situazione anche qui dove la magistratura è scesa in campo a gamba tesa e ha arrestato non solo l'ex sindaco ha arrestato anche eh un assessore di quella giunta e ha indagato una serie di consiglieri di consiglieri comunali sempre per lo stesso motivo corruzione nell'ambito degli appalti sui rifiuti perché poi abbiamo il grave problema che è quello dei rifiuti eh nella nostra provincia che eh su cui ovviamente si saranno spesi parole e fiumi di parole ma che è qualcosa che sembra non finire mai perché c'è un grave problema che parte dalla regione Campania e arriva fino ai comuni cioè a noi manca il ciclo per completare il ciclo dei rifiuti e finché non ci sarà corruzione ci sarà corruzione ci sarà criminalità organizzata nell'ambito dei rifiuti è chiaro che eh la situazione dunque della provincia di Caserta è una situazione critica e e e quindi praticamente la desertificazione proprio della della politica in generale non consente eh neanche movimenti di protesta di poter seminare appunto eh la propria la propria presenza sul territorio c'è una totale disaffezione alla politica perché eh è chiaro che eh e le vicende giudiziarie che ancora sono in corso e e purtroppo la situazione ambientale che è grave e che insomma eh ha bisogno di un intervento ancora più diretto da parte eh dello Stato eh purtroppo non consente ai alla cittadinanza che è una cittadinanza composta da un milione di persone di potersi dedicare tranquillamente alla attività politica eh eh quello che io volevo chiedere ehm alla ad Antonio è se eh nel progetto eh delle nuove comunali eh quindi della della città del paese insomma di Maddaloni eh c'è eh una possibilità di recuperare quindi questa fiducia nei cittadini attraverso delle iniziative politiche anche ispirate alla politica radicale perché Antonio da eh e da poco insomma è scritto anche radicali italiani e diventato mh quindi praticamente un un attivista eh in pieno io lo conosco in quanto è anche un avvocato penalista e conoscitore quindi di quelle che sono le dinamiche eh non soltanto ehm del territorio ma anche insomma le dinamiche giudiziarie. Sì eh Rosa il problema l'hai centrato cioè purtroppo noi paghiamo lo scotto di questa situazione giudiziaria che si è venuta a creare nella nostra città ma io credo che la città di Maddaloni abbia per parlare della mia città abbia tutte le qualità per potersi risollevare. Purtroppo ehm la magistratura si è sostituita ai partiti perché i partiti avrebbero dovuto fare pulizia al loro interno perché abbiamo toccato solo la questione dei rifiuti nell'ambito della provincia di Caserta senza toccare altre questioni su cui la stessa magistratura è stata costretta ad intervenire perché se i partiti avessero svolto il ruolo che gli compete cioè quello di fare pulizia eh anche all'interno eh anche al loro interno oggi probabilmente la magistratura eh che va a supplire un ruolo che deve svolgere i partiti non sarebbe entrato in campo e quindi probabilmente avremmo avuto politici che potevano degnamente rappresentare i loro elettori mentre invece oggi ci ritroviamo con una grave difficoltà di fare una scelta oculata tra le persone non coinvolte in queste vicende e eh di chiedere alle persone oneste e alle persone che vogliono bene e vogliono risolvere i problemi della città di Maddaloni di scendere in campo e la cosa non è semplice. Ci vuole un gran coraggio eh sicuramente ma eh la volontà esiste e soprattutto io sono sicura che eh nella provincia di Coserta e quindi anche nella eh nel paese di Maddaloni c'è tanta bella gente, tanta gente onesta, tanta gente che ha voglia eh di ricominciare a ricostruire eh insomma e a ridare dignità ad un territorio che è sempre stato un territorio eh emblema di una economia fiorente e anche di una politica eh di alto livello e questa è una cosa insomma da non dimenticare. A Caserta abbiamo avuto eh sottosegretari, onorevoli e quindi rappresentanti politici nazionali di grande livello e eh io credo che eh e non so se Antonio e adesso insomma gli porrò la domanda eh crede che insomma eh si debba sviluppare un dialogo ancora più importante quindi tra le eh amministrazioni e i cittadini ehm così come magari ha proposto eh Valerio Federico insomma con il suo progetto eh di eh federalismo delle amministrazioni. Credo di sì, credo che ha ha pienamente ragione e qui mi porto anche, mi avvicino alla scelta che ho fatto di aderire e di iscrivermi ai radicali italiani soprattutto perché in un mondo dove la politica pensa per se stessi al massimo per il parente prossimo per risolvere il problema. Radicali italiani invece pensano ai problemi degli italiani. Eh l'unica cosa è che probabilmente i cittadini italiani e l'Italia intera hanno ancora capito che oggi come non mai eh sarebbe logico e normale scegliere di aderire e di sostenere radicali italiani perché radicali italiani ha in sé l'impegno per le battaglie politiche non per le battaglie proprie o per le battaglie a cui i politici eh credono sol perché c'è un tornaconto personale, un tornaconto familiare o un tornaconto per coloro che eh sostengono il politico di turno. Qui invece stiamo discutendo da due giorni di problemi seri, problemi veri, forse che qualche cittadino neppure conosce neppure si pone però qui stiamo discutendo di democrazia e di libertà cosa che in altri gruppi, in altri partiti non si discute. Quindi eh è chiaro che eh così come abbiamo analizzato, ne abbiamo osservato per un periodo la provincia di Caserta eh il sentimento di protesta non riesce a conquistare il cittadino insomma di quelle zone ma c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di parlare di ideali perché chi eh ha avuto rappresentanti politici di alto livello, sottosegretari ripeto onorevoli eccetera ha avuto sempre a che fare con la alta politica e quindi ecco perché in provincia di Caserta ci si riconosce negli ideali di eh radicali italiani e anche perché radicali ha sempre fatto insomma quelle battaglie per le quali e nelle quali tu ti sei eh diciamo imbattuto cioè quelle sulla giustizia giusta che ne pensi insomma di un rilancio di quella che eh 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 una questione che ti posso dire come quella della responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere eh la carcerazione preventiva? Credo che va messo mano, tu lo sai come la penso, io sono per l'abolizione della custodia cautelare preventiva perché ritengo che non è possibile che uno stato di diritto si vada in galera prima e non si vada dopo la condanna, cioè una condanna qui non è mai definitiva mentre invece molto facilmente l'innocente eh riceve l'ordinanza di custodia cautelare e poi dopo dieci anni scopriamo che quella persona era innocente però a quel punto quella persona è praticamente rovinata perché dieci anni sono un quarto di vita e quindi ha trascorso un quarto di vita nelle aule giudiziarie e eh senza poi ottenere probabilmente alla fine neppure il giusto ristoro perché l'Italia non riconosce neppure il giusto ristoro in questi casi quindi io eh ho aderito anche perché ci sono queste battaglie che radicali italiani porta avanti che mi rivedono pienamente negli ideali di radicali italiani in più però ecco io farò un intervento domani dove chiederò di allargare le materie su cui radicali italiani deve intervenire perché ritengo che mai come in questo momento c'è da sfruttare un vuoto grosso politico che c'è in Italia dove né la sinistra né la destra lo riescono a riempire c'è un vuoto di ideali c'è una difficoltà ecco sugli stessi referendum non sono né per il sì né per il no però se l'abolizione del senato sarà quella che ha visto l'abolizione delle province beh allora è una presa in giro ci sarà solo una cosa sicuramente non voteremo più noi direttamente i senatori non votiamo più noi direttamente le province quindi c'è un arretramento sulla democrazia sulla partecipazione e sulla libertà dei cittadini ringraziamo quindi Antonio Cerreto e sicuramente lo riavremo ospite qui e vi auguro una buona serata da liberi di tutti grazie 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 grazie